salve a tutti questa è una piccola introduzione del video che segue grazie della vostra gentilezza che guardate il video vi auguro una splendida giornata salve a tutti ci troviamo a Engelberg qui entriamo in un piccolo paradiso per i bambini in cui possiamo fare del grill e con un splendido l'acqua questi sono i miei piccoli cuccioli facciamo un piccolo fuoco e metiamo ora la griglia un po di carne per mangiare grazie accendere il fuoco dietro a un lago così è qualcosa di unico la regna è pronta vediamo se sono bravo a accendere il fuoco velocemente il fuoco è pronto adesso siamo pronti per toccare la carta a quando ci sono riuscito che si non si è proprio che non si è proprio ora 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 Sì, come ho messo qui! Sì, sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Ah! Sì, sì! È un figlio! È anche un figlio. È un figlio! Un figlio! C'è un figlio! È un figlio! Oh, tu non ci sono! qui sta? posso? non è posto non è posto non è posto non è posto grazie per aver guardato il video il mio piccolo cameraman che ha fatto tutti i video oggi è stata una bellissima giornata se il video vi è piaciuto mettete like il video vi piace